Prima regola Voi costruite una fortezza e noi la attacchiamo Seconda regola Chi conquista la fortezza entro la fine delle vacanze vince Terza regola La battaglia inizia domani alle nove in punto Evviva! È arrivata l'ora! Fuoco! Dovreste migliorare il vostro giro Se volete la guerra, guerra sia! Qui si mette molto male All'attacco! È un'imbuscata! Corico! Sei brava? Certo Ma parlare con i nemici non era vietato? Tutto tranquillo sul fronte est Anche su questo fronte Ma bella, è più lunga Usate il ritardo Cleo ha avuto un incidente Opsa! Siamo sbacciati! Se restituisci la fortezza Si potrà fare un ultimo attacco Sì, sì, certo! Sul campo di battaglia! E vai! Palle di neve Ta-da! La bandiera del nemico Vuoi annusare? Dal 24 novembre al cinema Sì, 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 Grazie a tutti